Buonasera a tutti, sono Giorgia Bolba e oggi volevo farvi una libbre-ecensione su uno dei testi che avevo accennato ieri nella holla, ossia l'orchestra di Edipo. L'ho terminato ieri sera e appunto adesso mi sento di poterne parlare perché ce l'ho molto fresco come testo. Allora, dal titolo io pensavo si trattasse comunque di un testo con riferimenti alla tragedia di Edipo o che comunque fosse una storia familiare con degli accenni, con una tragedia comunque, con qualche riferimento. Invece no, per tutta l'intera durata del romanzo non si parla nient'altro che di fatti raccontati poi in maniera più o meno discutibile sulla vita del protagonista. E la cosa che veramente non mi è piaciuta è che più o meno ogni capitolo è slegato rispetto ai precedenti. Ad esempio, in un capitolo si parla delle origini del padre, nel secondo capitolo magari si parla di tagli e delle muffe e del zucchero. Oppure in un capitolo si parla della sordità del padre, nel capitolo successivo si parla di come lui, il protagonista e il fratello abbiano fatto un viaggio nell'est dell'Europa e le loro varie peripezie. Dopo questo capitolo c'è l'ultimo capitolo nel quale si racconta che la moglie del protagonista era gravida di due gemelli. Io sono rimasta colpita perché è sconclusionato come racconto, ok, ci sta che sono delle tragedie, delle micro tragedie, dei fatti di una famiglia magari un po' tragici. Però non sono legati tra di loro, ok, è la stessa famiglia, però i fatti non sono legati, non hanno un ordine cronologico oppure non hanno un qualche senso spazio-temporale. Non c'è un filo conduttore che lega queste storie, diciamoci la verità. E quindi per questa motivazione io lo devo bocciare. Avevo comprato questo libro sperandoci tanto, ero piena di speranze, soprattutto perché mi piaceva il titolo. Scusate i miei capelli sono osceni, ma non so come metterli, dovrei tagliarli per farli stare bene. Invece questo libro mi ha molto deluso, quindi se mai doveste imbattervi in questo testo, se lo trovate attraverso, vabbè, ci sta che lo compriate. Se invece doveste trovarlo a prezzo pieno, non so se si trova, non so dove si trova, ma sicuramente se girate lo trovate, io ve lo sconsiglio caldamentissimamente. Poi, se volete saperne di più, purtroppo mi ha lasciato amariggiata, quindi non so a che dirvi, non ha una storia completa. Comincia parlando della sordità del padre del protagonista, poi comincia, io pensavo chissà che cosa, poi quali intrighi ci fossero causati da questa sordità, invece nulla. Quindi questa è la faccia per descrivere appena il libro. Non mi è piaciuto per niente. Ah, l'ultima cosa, ho scoperto che l'autore di questo fantastico testo, che si chiama Giovanni Richler lavora come editor in una casa editrice, è stato corrispondente del resto del Carlino e è autore di romanzi erotici sotto copertura. Io penso che se invece di scrivere questa cacchettina, avesse scritto un altro romanzo erotico, magari senza pseudonimo usando il suo vero nome, l'avrei apprezzato maggiormente. Questo è quanto video veloce e breve perché non avevo molto da dire, ma niente. Tutto qui vi saluto e se come me rientrate domani a scuola, buon rientro. Un bacione a tutti e al prossimo video.